Bassano procurava risse ed era violento, arrivando a sfasciare qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Ben conosciuto dalle forze dell'ordine, pluri pregiudicato, dedito al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, e l'Agi, 31enne, è stato oggetto di un aggravamento della sua posizione nei confronti della giustizia e fra qualche giorno non potrà più soggiornare nel territorio di Vicenza e provincia.